Amici di Bella Sicilia, questo è quello che vi aspetta in Sicilia. Siamo a Caronia e vi presentiamo alcuni dei nostri prodotti che troverete anche questo fine settimana in occasione della Sagra Porcelli e Porcini. Questa è una rivisitazione che abbiamo fatto noi dell'Arrosticino fatto con il suino nero di Enebri, che alcuni dei nostri clienti ormai è molto apprezzato e lo portiamo sempre ai nostri eventi e lo troverete quindi appunto questo fine settimana all'Arrosticino. Questa è la nostra porchetta di suino nero di Enebri, con cui andiamo a condire i nostri panini accompagnati da una cremina di funghi porcini davvero deliziosa. Molte di quello conosceranno già, è un piatto, una preparazione molto antica e fatto con le parti più povere del maiale. Abbiamo qui la gelatina condita, vengono sbollentate, vedete ci sono delle parti con della cotenna, della mascella, insomma altre parti meno pregiate del suino. E' una condita con sale, pepe, alloro e un pizzico di aceto per togliere un pochettino la percezione del grasso di questo piatto. E qui alzino altri nostri prodotti come la pancetta, le salsicce seccate, salami, il lardo di suino nero, insomma venite a provare queste cose amici. Vi aspettiamo per l'evento Porcelli e Porcini, è la ventiquattresima edizione della nostra sagra, giorno 25, 26 e 27 ottobre. Grazie a tutti. Grazie a tutti.